Questa l'ho decespugliato però nello spazio interfilare, tra l'altro è un po' di pasta e quindi da fare necessariamente io. Qua è tosta, sicuramente è tosta. Non c'è nessun problema per il semplice motivo. Ci sono io per zappa. Questa è un po' più forte perchè c'è un po' di vita, guarda che facciamo, ammappa tu. E questa quella è la leggera setta, non è che tende. Siete, io riuscite a fare un po' più feccola, ma sembra erba. Questa è una frasca. E' un po', ma basta altro pezzo. Facciamo altro pezzo. Questa è un po' più forte. Questa è un po' più forte, non ho certe. Questa è una mura senza spina, la deve salvare. Manca posta corteccia qua. Va bene, salvemo questa ecca. Questa è una mura senza spina qua. E questa la siamo salvata. Va bene. Speriamo un po' di qua. Questa è una mura. Questa è una mura. Questa è la mura. Questa è la bugia che ci trova che è meglio. Perché sono molto troppo. Ecco qua. Questa è la taglia più terra. Questa è la fatica. C'è la fatica. L'allezza. Questa è la fatica. Andi nato. Andi nato. Andi nato. Andi nato. Andi nato. Andi nato. Andi nato.